Robyn, com'è andata l'estate intanto? Cosa hai fatto? Ti sei riposata? Ti sei rilassata? Sì, è andata molto bene, ho fatto un bene vacanza, sono andata in estraia per sette settimane, adesso ho visto la mia famiglia, le mie amiche, ho anche lavorato per il podcast che faccio con le mie amiche. Non ci racconti di cosa parlate, perché io l'olandese non lo capisco, ma di cosa parlate? Vi divertite tanto? Sì, no, parliamo della nostra vita, il palavolo, vivere fuori Olanda, cose sono le nostre esperienze e anche altre cose, solo cosa pensiamo e anche adesso stiamo parlando di cosa succede nell'europeo, quindi dopo ogni partita di Olanda parliamo un po'. Ma ridete sempre però, ridete? Sì, perché siamo con amiche, quindi sì, è divertente, è un gioia, sì. È una gioia anche tornare in quella che ormai è la tua casa, l'ottava stagione, ho otto anni. Sì, è veramente come tornare a casa, non sono più abituata a questa caldezza, quindi è un po' un shock, ho ovviamente dimenticato quanto è caldo, ma è bello, è anche bello da vedere le nuove facce, le nuove ragazze e anche le vecchie, quindi sì, è bello. Ecco, sei arrivata la ragazza, adesso sei una donna, una ragazza un po' più grande, un po' più grande. No, otto anni dopo, sì, otto anni ho, sì, è un giorno lungo, è un giorno lungo, è un giro, sì, è un viaggio con anche la me stessa... Di crescita. Sì, come sono cresciuta, quindi sì. Sei cresciuta però a suon di vittorie, bisogna continuare a vincere anche quest'anno. Proviamo, con ogni stagione proviamo e questo è il goal per questa stagione e sì, la vogliamo per quello. Grazie.